Cinque anni e mezzo di reclusione, questa la pena inflitta ad un 65enne aretino riconosciuto dalla Corte del Collegio del Tribunale di Arezzo, presieduto da Gianni Fruganti, colpevole di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne. Una triste vicenda che risale al 2016 quando l'uomo, come riferito dalla giovane, un vicino di casa della famiglia, l'avrebbe attirata con una scusa per poi compiere atti sessuali. La quindicenne, una volta tornata a casa, aveva raccontato tutti i genitori che subito denunciarono l'uomo alla squadra mobile e partirono così immediatamente le indagini. La prova principe che poi costata la condanna all'uomo è stato proprio il racconto lucido della ragazza assistita dall'avvocato Piero Melani Graverini, acquisito in incidente probatorio dinanzi al GIP Anna Marello Prete, dunque con valore di prova. I giudici della Corte ieri, prima che si arrivasse alla discussione finale, lo hanno voluto rivedere in aula. Una modalità prevista dalla legge per evitare così alle vittime di reati di questo tipo di dover poi testimoniare in pubblico. Nella sua requisitoria il PM Marco Dioni aveva chiesto la condanna a sei anni, il tribunale l'ha limata solamente di qualche mese. L'uomo è stato infatti condannato a cinque anni e mezzo.